In questo secondo video sulla conoscenza e scoperta del colore acrilico vi propongo un video dove dipingeremo con i colori acrilici usando molta acqua, a differenza del video precedente dove non ho praticamente usato nessun medium se non il colore. Vedremo come cambia il colore dopo averlo steso sulla tela, quanta acqua dobbiamo usare e soprattutto come influenza l'acqua il nostro modo di dipingere con i colori acrilici. Useremo i colori che abbiamo usato la volta precedente e vedremo come dipingere con strati successivi di colore possa rendere sia i chiari che gli scuri pieni e corposi senza mettere troppo colore sulla tela. Il mondo dei colori acrilici è interessantissimo e le applicazioni di questi colori su più superfici fanno di questo mezzo uno dei più versatili che oggi noi abbiamo a disposizione. Spero quindi anche che coloro che hanno un poco di diffidenza verso questo tipo di tecnica comincino a sperimentarla senza pregiudizi e troveranno piacevolezza nell'usarla, ne sono sicuro. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video e di condividerlo sui vostri profili social e naturalmente commentate sotto la descrizione. Vi auguro un buon sabato e una buona domenica a tutti e a tutte e buona visione. Nero di marte e bianco di titanio per questo fondo. Vedete come la superficie è abbastanza scura, però ovviamente in sede di asciugatura vedete si scurisce ancora di più. Adesso aggiungo ancora un poco di nero di marte ed è più scuro e vedete come stranamente questa tinta alle prime alle prime battute sembri addirittura virare verso il marroncino. Però notate che subito dopo, subito dopo poco tempo, guardate la differenza tra questo e questo e quest'altro passaggio, vedete si scurisce subito immediatamente. Perché si comporta così? Perché l'acrilico si comporta in questo modo, soprattutto quando è molto diluito con l'acqua. L'acqua evapora immediatamente, quindi il processo di asciugatura è molto veloce e rimane il residuo del pigmento sulla superficie. Io ho dato due mani di pittura acrilica prima di dipingervi sopra. Non occorre secondo me nient'altro. Vi ricordate di mettere due contenitori, uno dove pulire il pennello e uno dove immergere il pennello per miscelarlo con gli altri colori. Adesso preparo il fondo per le nuvole. Le nuvole sono bianco titanio, giallo di cadmio, nero di marte e rosso pirrolo. Adesso lo diluisco con l'acqua e ottengo una miscela che vado a provare, perché naturalmente ho bisogno di provarla per capire che tipo di giallo io vado a cercare. Un marroncino proprio che viri al giallo, perché come abbiamo visto prima anche con l'olio, una base di questo tipo è molto interessante per le nuvole. Questo non mi soddisfa. Allora aggiungo ancora del bianco di titanio e del giallo di cadmio e adesso ottengo un colore che mi interessa. Lo metto vicino al colore del fondo per vedere qual è proprio la sua risultanza in termini proprio di differenza e poi andrò a metterlo, se mi soddisfa, sulla sulla tela. Ecco qui vedete la differenza. Questa sarà la differenza che noi avremo in questo momento quando noi decideremo di dipingere il il fondo, cioè tutto lo spazio pittorico che sarà occupato dalle nuvole, disegnandole ovviamente cercando di inventare, come nel mio caso, oppure magari di copiare come nel vostro, senza nessun problema, uno spazio proprio fisico all'interno del quale le nuvole andranno dipinte. Abbiamo due dipinti particolari, due quadri. Questo che sto facendo in questo momento è quello della volta scorsa. Sono due dipinti ad acrilico e sono diversi in questo senso. Nel primo, quello della volta scorsa, non abbiamo usato praticamente mai l'acqua, se non all'ultimo, ma in misura minore. Qui invece l'acqua la fa da padrone ed è fondamentale per la diluizione dei colori e soprattutto per l'uso che noi facciamo dell'acqua, in questo caso, per ottenere anche dei particolari effetti di pattern e di trasparenza che vanno a mettersi una sull'altra e possono creare degli effetti interessanti. Però dobbiamo tenere presente sempre una cosa fondamentale, come abbiamo detto all'inizio, e che sempre sarà. Quando noi dipingiamo con l'acrilico e usiamo l'acqua con l'acrilico, dobbiamo sapere che a qualsiasi livello e su qualsiasi superficie il dipinto, il colore che noi mettiamo, dopo poco cambierà di tonalità. Ma non solo cambierà di tonalità, ma avrà anche la particolarità di influenzare le tonalità che lui ha vicino ad esse. Adesso, per esempio, e questo naturalmente non è solo una sua particolarità, accade anche con l'olio, però in maniera sensibile lo possiamo verificare proprio in questo momento, dove lo sfondo che io ho fatto, lo sfondo che ho eseguito ad acqua diluendo l'acrilico con l'acqua, ha ottenuto l'effetto di essere messo a confronto con questo giallo che ho creato e che ho messo come sfondo delle nuvole. Ciò ha fatto sì che il blu, che esiste all'interno del nero, di qualsiasi nero, venga fuori in maniera preponderante. Ecco, vedete, io uso praticamente un piattino di plastica in questo modo, lascio un po' d'acqua sedimentare nelle pareti, in modo che io girando posso andare a coprire i colori, oppure ad attingere l'acqua e poi attingere sui colori, e comincio a dipingere dagli scuri. Dicevo, fa diventare, per tornare al discorso di prima, questo giallo messo sullo sfondo grigio, fa diventare lo sfondo azzurro, e quindi io non ho, non mi sento, non ho bisogno di aggiungere alcun azzurro al cielo, perché il cielo che io voglio ottenere deve avere questo tipo di tonalità. La prima cosa che io faccio, naturalmente, è quella di usare lo scuro e quindi il nero, insieme al giallo che io ho usato per costruire il fondo delle nuvole, lo uso per riuscire a dipingere quello, quello che è il, quelli che sono le ombre delle nuvole stesse, per riuscire a ricavare poi, con le luci, il volume delle stesse. Quindi, io procedo in questo modo, e vedete che, man mano che io procedo, ed è questo quello che io voglio farvi vedere, indipendentemente da ciò che noi andiamo a rappresentare, quando io metto un colore, guardate bene che questo colore, vedete come in questo caso è così chiaro, poi vedrete che, man mano si scurisce, ma si scurisce abbastanza, abbastanza velocemente, e questo succede proprio perché noi dobbiamo stare molto, molto attenti a riuscire a capire quali sono i cambiamenti del colore che abbiamo, mentre dipingiamo, vedete come la parte centrale si sta scurendo, rispetto al colore che noi abbiamo dato precedentemente. Quindi a me, ovviamente, interessa una mezza misura, una mezza tonalità, per riuscire a giocare con queste trasparenze, vedete, e cercare di modellare la superficie in modo tale che possa essere convincente e interessante per me il risultato che poi mi darà la possibilità di rappresentare queste nuvole in maniera volumetrica. Ovviamente questa situazione, questa, questa mia dipintura della nuvola deriva dalle osservazioni delle nuvole stesse, quindi per sapere che io devo, devo pensare che la luce viene da un determinato punto, che in questo caso io ho battezzato come la parte sinistra del dipinto, ed arriva verso destra, e la parte al centro io vorrei che fosse un pochino più all'indentro delle parti che sono lateralmente esposte al sole. Adesso io voglio farvi vedere con questa immagine, mettendola confronto con l'altra che arriverà fra poco, quanto dopo essere asciugato, il colore è diventato scuro, rispetto a come noi lo abbiamo, lo abbiamo messo. Ecco, adesso sto mettendo questo chiaro, per evidenziare qual è il chiaro della nuvola, ma questo bianco che io sto mettendo in questo momento, anche se sembra molto bianco, in realtà è un colore che viene mischiato, il bianco di titanio, al giallo dello sfondo, come io ho fatto con gli scuri. Se con gli scuri io ho mischiato il nero al giallo che ho ottenuto per far lo sfondo, qua mischierò il bianco al giallo che io ho ottenuto per far lo sfondo, quindi non otterrò la massima luce, ma otterrò un colore che mi darà la possibilità di determinare quelli che sono gli elementi in luce e gli elementi in ombra del dipinto. Queste sul colore acrilico sono esperienze che potete fare in maniera proprio facilissima e senza nessun tipo di problema. Come vedete, ricordo, per lo sfondo non ho utilizzato nient'altro che il colore acrilico che utilizzo poi per dipingere. Questo perché ritengo che più il pigmento si avvicina come struttura al pigmento dello sfondo, più il pigmento avrà la possibilità di avere una migliore aderenza con lo sfondo e quindi una migliore risposta da un punto di vista coloristico. Ecco, quindi abbiamo queste due situazioni che abbiamo presentato, che stiamo presentando. Quella della volta scorsa, ripeto, dove non abbiamo usato praticamente nessun diluente e qui dove l'acqua, dove cerchiamo di capire quanto l'acqua può essere influente sul colore che noi mettiamo, perché non è come l'acquerello. Per esempio, nell'acquerello noi mettiamo il pigmento e quando asciuga può essere più o meno definito il colore, però abbiamo già una buona risposta di quella che sarà la sua intensità cromatica, senza dimenticare che quando e qualsiasi momento noi vogliamo, basta mettere sopra all'acquerello dell'acqua e questo rivive. Invece questo non succede con il colore acrilico, per cui quello che noi mettiamo sulla tela, sulla foglia di carta, sul muro, è quello che poi sarà e l'unico modo per riuscire a cambiare e variare la sua struttura grafica pittorica, sarà quello proprio di intervenire sopra di esso, non poter usare esso. Per il colore olio questo vale perché il colore olio ha una lenta asciugatura per cui abbiamo molto tempo per poterlo riprendere e usare anche il colore che abbiamo dato in precedenza sullo sfondo. Invece con il colore acrilico, una volta che è asciugato, ma direi una volta che è proprio iniziato lo processo di asciugatura, questo non sarà più possibile. Ecco che io disegno lo scuro, il chiaro delle nuvole, utilizzando in questo momento questo tipo di tonalità, che ovviamente sarà assorbita e diventerà anche un poco più scura, però che mi dà la possibilità poi di riprenderla nei toni più chiari e capire dove io posso andare ad incidere per riuscire ad ottenere ciò che io voglio ottenere. Questa particolarità del colore acrilico di di asciugare velocemente ha dato e darà dei problemi anche da un punto di vista del restauro dei grandi dipinti perché fino a dopo la fino a prima della seconda guerra mondiale non vi sono dipinti in acrilico. Dopo la seconda guerra mondiale vi sono tantissimi dipinti in acrilico e mi ricordo che uscì anche un articolo della Tate Modern a proposito di A Bigger Splash, il grande splash che è un grande quadro di David Hockney realizzato ad acrilico dove noi vediamo una piscina disegnata abbastanza ortogonalmente, quindi abbastanza in maniera con dei piani molto geometricamente scanditi, mentre poi al centro abbiamo un trampolino che vediamo spuntare e questo grande spruzzo d'acqua relativo al fatto che qualcuno sia tuffato nella piscina. Ecco il problema che si sono posti è quello proprio relativo al restauro di questi dipinti perché a differenza dei tradizionali dipinti ad olio per esempio quelli ad emulsione acrilica venivano verniciati raramente e la conseguenza di questo era che lo sporco e la polvere trasportato dall'aria si depositassero direttamente sulla superficie della vernice che si accumulano accumulandosi con il tempo e ovviamente questa situazione può compromettere, come accade proprio anche nei dipinti ad olio, proprio il suo aspetto del dipinto nel tempo. Però il problema è che questo fatto, il fatto che non vi sia una verniciatura sopra il dipinto acrilico, pone il problema che questi tensioattivi proprio che sono all'interno della pittura acrilica hanno molto spesso la capacità di fondersi in maniera stranissima con gli agenti esterni come polvere, sporco, grasso eccetera eccetera, per cui con i moderni sistemi che si ha adesso e i moderni agenti con cui si puliscono i dipinti ad olio c'è il rischio veramente di andare a portare via proprio il pigmento perché è talmente unito alla superficie magari sporca che questo non è più possibile non è più possibile fare ed allora si stanno cercando di trovare dei delle delle soluzioni a questo e si sono sono trovata ovviamente però non è questione di poco conto per cui vi consiglio di verniciare alla fine del vostro il vostro dipinto alla fine con una semplicissima vernice all'acqua con uno strato sottilissimo e quando la lo verniciate ovviamente mentre nel dipinto ad olio voi otterrete una uniformità delle tinte e basta nel dipinto acrilico se spesso nei colori chiari che sono magari in trasparenza con i colori con i colori scuri noi potremo anche vedere un'esaltazione di certi segni che prima non lo erano e quindi praticamente questo tipo di verniciatura potrebbe anche influenzare il dipinto stesso sia in maniera positiva che in maniera negativa quindi bisogna prima guardare e vedere bene come si può fare e quindi meno vernice si mette sopra meglio è meglio sarà meglio sarà l'influenza della stessa sul sul dipinto finale adesso sto ultimando nel dipinto il quelle che sono le sistemazioni di quelle che poi verranno esaltate come come ombre oppure verranno esaltati come chiari tutti gli spazi che mi necessitano e che saranno poi occasione di intervento con il bianco di titanio mischiato sempre un pochino al giallo fino a da fino proprio a mettere il bianco di titanio in maniera proprio piena per esaltare i bianchi e quindi vedete come man mano che il dipinto procede tutti i toni si sono nella nella stragrande maggioranza abbassati e questo proprio in virtù del fatto che l'acqua l'acqua ha una una grande una grande influenza su tutto questo adesso vedete qua in questo momento io sto mettendo poca acqua molta meno acqua di quella che ho messo prima nel fare la prima stesura dei 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 chiari e ovviamente anche se è ancora un pochino mischiata al giallo la sua la sua tendenza a scurirsi sarà minore e quindi in questo modo io vado a costruire sopra i bianchi che ho colorato una un tono più chiaro e lo farò tenendo conto del fatto che meno io mi spingerò nel bordo e quindi meno il il diciamo la pennellata sarà più secca e più e meno sfumata fra il bianco e lo scuro del cielo e più interessante sarà l'effetto per quello che io lascio un pochino che il giallo si intraveda in modo che possa servire a creare questo tipo di effetto quindi io adesso ripeto sto dipingendo con il bianco di titanio mischiato mischiato un pochino al al giallo e quindi un pochino ancora all'acqua per cui lo vedrete ancora abbassarsi di un altro po il dipinto anche se veloce come in questo caso anche se noi facciamo un dipinto veloce che può servirci anche ad esempio per fare un cielo in un trompe l'oeil oppure proprio peser per esercitarci con il con il colore con l'acrilico e vedere quali sono le possibilità che abbiamo di agire mentre e di capire come il l'acrilico si comporta quando si asciuga e come cambia il colore questo per chi dipinge ad acrilico è fondamentale è fondamentale se si usa anche molto l'acqua e questo accade soprattutto nelle pitture murali io adesso apro una parentesi come si dice come si suol dire per per sottolineare come molto spesso la parola a fresco sia abusata e spesso invece noi in realtà ci troviamo davanti a delle pitture murali ad esempio un caso che io vedo ripetere abbastanza spesso è quello della di certi interni di decorazioni di ville che sono delle pitture murali e vengono chiamate a freschi e qui in italia ve ne sono moltissime una di queste è che mi ha folgorato la prima volta che io sono andato a vederla e mi ha proprio lasciato moltissimi insegnamenti soprattutto quando si dipinge sul muro e quindi quando si dipinge su una superficie che poi con la mia esperienza proprio vissuta in prima persona ho capito quanto sia difficoltoso proprio in ragione del fatto vedete questo il piatto che io uso e come a questo punto del dipinto in proprio in ragione del fatto che il colore si asciuga moltissimo e cambia moltissimo questa villa è la villa maser in provincia di padova progettata dal palladio e decorata all'interno da paolo veronese ecco questi dipinti all'interno questi trompe l'oeil dove sono queste balaustre e questi paesaggi che sono dipinti internamente soprattutto i paesaggi non tanto i soffitti dove sono queste queste immagini di di storie di putti che sono sospesi ma soprattutto mi interessavano proprio i le pareti le finte pareti le finte balaustre con le decorazioni che stavano dietro che erano molto molto lievi di colore non era un colore aggressivo ed era studiato così appositamente per il fatto che questa villa essendo abitata in questa villa essendo abitata i dipinti non dovevano avere una preponderanza in maniera così forte si sono presenti sono forti però hanno tutti un tono molto delicato ed è sono e sono molto interessanti le pennellate viste da vicino perché visto da vicino noi veramente abbiamo l'impressione che il tempo si sia molto accorciato e che in realtà un certo tipo di pennellate che conosciamo nell'ottocento magari la potevano conoscere già e se si va a vedere quel tipo di rappresentazioni si vede proprio all'interno una scioltezza una capacità proprio di sintesi del colore del chiaro e dello scuro per poter restituire da lontano una forma è notevole e da quello ho imparato moltissimo proprio nell'osservazione e che dicevo che ora una dei dei cardini della della di una scuola pittorica che io prediligo proprio quella che l'osservazione del dipinto dei maestri dei pittori che ci hanno preceduto soprattutto in loco non tramite fotografie proprio ci dà un insegnamento magistrale e dobbiamo tenerlo presente ecco perché vi consiglio anche quando andate e ne avete la possibilità ovviamente fatti delle fotografie più vicino possibili al dipinto non tanto per il dipinto in sé che non potete fotografare tranquillamente intero e questo esula dal mio discorso che sto facendo in questo momento ma proprio per vedere le pennellate per poi ricordarvi e guardare e farvi venire in mente quel certo di quel tipo di soluzione come è stata ottenuta ecco praticamente in questo dipinto in maniera umile e assolutamente molto 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 inferiore io mostro come sia possibile riuscire a a ottenere questo tipo di effetto e chiaramente poi questo quadro potrà essere visto e potrà essere apprezzato nel suo effetto visto da una certa distanza ma però apprezzato per quanto riguarda proprio la tecnica dalle persone che invece saranno interessate a vederlo da vicino e ad apprezzare i movimenti del pennello e la costruzione proprio dei chiari e degli scuri sul sul dipinto stesso volevo dire una cosa in merito alle mail che mi mandate con i vostri dipinti ecco a proposito di questo mail alle quali risponderò quanto prima a proposito di questo nei vostri dipinti molto spesso vi è un uso del colore massiccio per riuscire ad avere un certo tipo di colore mentre non occorre moltissima pittura per ottenere un colore chiaro ma occorre che la pittura venga lasciata asciugare e venga diciamo e venga messa sopra messo sopra questo strato di pittura un altro strato con un tono più chiaro e questo soprattutto succede con i bianchi e quindi vedo dei dipinti che sono che mi mandate che sono molti pieni di colore in un preciso punto invece in altri punti dove il colore non esiste bisogna mettere intensificare il colore sì in alcune parti però che tutto il quadro debba essere ripartito omogenea o in maniera omogenea dello stesso colore in tutte le sue parti se no non riusciamo ad esaltare e a far a far fiorire quella quella particolare qualità del pigmento stesso se non con un con una sovrapposizione passaggio dopo passaggio dello stesso per rinforzarlo e per far ottenere così adesso la più la piena intensità di tono detto adesso adesso sto agendo praticamente con il bianco puro perché in questo momento come vi ho detto prima metto il bianco in favore del fatto che sotto di esso vi è una tale quantità di colore che mi permette che permette a questo di essere meno assorbito dei precedenti e quindi di essere più solidamente più solidamente messo in grado di poter di poter adempiere al suo compito che quello di esaltare proprio le luci in queste particolari forme ritornando a veronese si dice spesso che la scuola veneta è la scuola dei coloritori a differenza della scuola fiorentina che è una scuola di disegnatori ma in realtà se vi sono due pittori che fanno del segno una propria una propria cifra stilistica fondamentale quindi della grafia sono veronese e tintoretto quando vi capita di essere in una sala con esposte delle opere di veronese potete rendervi conto di questo di quanto i dipinti i suoi dipinti siano in realtà la sommatoria di molti grafismi all'interno della superficie che descrive la forma e il volume questo anche in un dipinto grandissimo e sfortunato per la sua collocazione ma fortunato per una sua reinvenzione di collocazione che sono le nozze di cana di veronese allora le nozze di cana di veronese sono all'ouvre e sfortunatamente per loro sono di fronte alla gioconda per cui miriadi e migliaia migliaia di persone miriadi di persone come dicevo prima si accalcano davanti alla gioconda mentre non guardano il miracolo che sta alle loro spalle che è quella no sono quelle nozze di cana straordinarie che veronese va pensato per l'isola di san giorgio maggiore a venezia allora un inglese ha ha fatto questa operazione in collaborazione ovviamente con l'italia e con il museo del louvre scansionando completamente tutte le nozze di cana ma non tanto per fare una fotografia ma quanto per riuscire a capire come era fatto il fondo delle nozze di cana per cui prima di fare la fotografia ha ricostruito millimetro per millimetro tutta la superficie con tutte le i dossi con tutte le le forme che proprio i pennelli avevano lasciato proprio sul colore e come se vi fosse un colore completamente univoco che però desse la possibilità di ricostruire proprio la superficie nelle sua modellatura allora poi su questa superficie che ritraeva in maniera impressionante le nozze di cana di veronese viene applicata la fotografia delle nozze di cana di veronese e questo enorme dipinto viene ricollocato nel cenacolo di dell'isola di san giorgio maggiore a venezia per cui adesso se voi andate la avete una visione straordinaria di questo dipinto collocato nel suo ambito originale e sicuramente lontano da quel frastuono assordante e incredibile e direi quasi inumano potete quasi goderne di più dell'originale stesso però se riuscite ad avvicinarvi anche solo ai piedi di esso vedrete che proprio è questione di segno che noi stiamo parlando e non solo di colore quello di paolo veronese e questo lo vediamo ancora meglio proprio nelle sue nelle sue velocissime decorazioni di villa maser che ci sono arrivate fino a noi e sono veramente splendide termina così questo nostro secondo appuntamento con la pittura acrilica per cercare insieme proprio di indagare questa tecnica di scoprire quali sono i suoi aspetti e le sue peculiarità più o meno interessanti vi ringrazio di essere stati qui con me e vi invito a iscrivervi al canale a mettere un mi piace al video e a condividerlo se lo avete trovato utile e formativo sui vostri profili social e non dimenticate di commentare sotto la descrizione quindi non mi resta altro che augurarvi con queste ultime pennellate di passare un buon fine settimana a tutte e a tutti a presto Grazie Grazie Grazie